Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi e io sono Marco Matarazzi. Benvenuti al nostro podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di SEO per hotel con Giorgio Taverniti. Oggi una puntata speciale, parliamo di SEO e ne parliamo in maniera un pochino più approfondita con un ospite speciale. Siamo molto contenti di avere qui con noi Giorgio Taverniti. Ciao Giorgio. Ciao Marco, ciao Edoardo, grazie per l'invito. Allora, Giorgio è il co-founder dell'azienda Search on Media Group, realtà che si occupa di consulenza, di organizzazione di eventi, in ambito digitale e di formazione. Quindi Giorgio è un community manager, un ruolo, un titolo che in pochi hanno, perché comunque è un lavoro molto di nicchia, poi magari ci spiegherai un po' anche che cosa fa, nello specifico community manager della piattaforma con NECGT, una community, un gruppo di esperti, dove anche io e Edoardo bazzichiamo la piattaforma, che sono appassionati di diversi aspetti in ambito tecnologico e lì si discute, si ragiona, si fa brainstorming e ci si tiene aggiornati anche su quelle che sono le novità. Per chi è curioso si può iscrivere su www.connect.gt, l'iscrizione ovviamente è gratuita e ci sono veramente un sacco di spunti. Giusto. Quando si parla di SEO, che è appunto l'argomento di questa puntata, si rischia sempre di cadere nella rete di millantatori. A tratti sembra quasi un'arte oscura per una cerchia ristretta di nerd e di visionari, di un settore quindi tanto sconosciuto quanto intrigante e quello che vorremmo fare oggi con Giorgio in questa puntata è di dare degli spunti e delle linee guida agli albergatori che possano aiutarli nella scelta di un consulente esterno appunto per la SEO, ma anche nel proporre una strategia corretta e moderna insomma. Quindi che cosa deve vedere un albergatore? Quali sono gli aspetti che va a valutare? Anche perché la funzione principale della SEO è quella di coinvolgere, di coinvogliare il traffico organico proprio o niente appunto dai motori di ricerca verso il proprio sito web con lo scopo di generare visite, lead oppure potenziali vendite, nel caso appunto di un albergatore, di generare prenotazioni. Quindi la prima domanda che vorrei fare a Giorgio è quando un hotel si rivolge ad un consulente esterno ed acquista un pacchetto di consulenza, perché c'è spesso questo termine, il pacchetto di consulenza di ottimizzazione SEO del proprio sito, che cosa ci dobbiamo aspettare? E soprattutto è qualcosa di tangibile e misurabile? Allora, il problema è già il pacchetto, nel senso che la SEO non si può vendere a pacchetti, cioè nel senso c'è chi la vende ovviamente, però il pacchetto ti dà la sensazione di qualcosa che comunque è già precostruito, che comunque è già pronto, che comunque puoi già usare, quando in realtà noi sappiamo benissimo che ogni realtà ha le sue esigenze. Quindi secondo me già nella parte del pacchetto bisogna approfondire che cos'è, perché molte volte ci sono queste aziende che vendono lo stesso pacchetto a tutti, perché ci può stare che è una realtà che vende dei pacchetti, ma li fa anche in modo professionale, cioè nel senso lo personalizza sul cliente, ci parla col cliente eccetera eccetera. Secondo me la prima cosa quando vai ad acquistare un servizio di questo tipo è cercare di capire se chi te lo sta vendendo sta facendo realmente qualcosa di giusto per la tua realtà, perché un pacchetto SEO per hotel cambia, non cambia solo dalla tipologia di struttura ricettiva, ma cambia anche in base a dove è dislocata la struttura ricettiva, perché una cosa è fare SEO su un hotel che sta in centro città a Bologna e un'altra cosa è fare SEO per hotel che sta a Rimini, per esempio. Sono già due realtà completamente differenti, quindi i pacchetti io li eviterei, a meno che tu non sei sicuro e certo che stai parlando con una realtà aziendale di consulenza elevata che lavora sul mercato da tanti anni e che non fa un lavoro fatto in fabbrica, dove a quel punto ti mettono al centro, cioè mettono il tuo hotel, la tua struttura ricettiva al centro dei loro pacchetti, poi ci può stare, però non mi affiderei mai alle cose standard, ecco. Quindi la SEO non può essere fatta in maniera stock, proprio perché cambia caso per caso e va fatta su misura, è un abito su misura, non è la taglia unica in qualche modo. C'è una definizione molto bella che è non si scende in pista senza sapere com'è il tracciato e chi sono gli altri piloti, insomma, e qui la definizione di pacchetto SEO va a cadere totalmente. Va a cadere. Quindi primo consiglio, non compriamo cose a stock in pacchetto magari per risparmiare qualche euro. Poi in che cosa consiste un'analisi SEO? Da dove si parte? Quindi se io sono un albergatore e ho davanti un consulente, che cosa posso chiedere? Che cosa posso, tra virgolette, pretendere, Giorgio? Da dove si inizia? Ok, allora, innanzitutto diciamo una cosa, che l'analisi SEO cambia da progetto a progetto, questo ormai è abbastanza chiaro, però noi siamo in ambito hotel-albergatore, che è importante, perché altrimenti dico delle cose e magari qualcuno mi può dire ma non è vero, stiamo parlando di albergatori e di hotel. Il commerce è un'altra cosa, per esempio, no? Esatto, esatto. Quindi quando si parla di struttura ricettiva, l'analisi SEO ci sono varie cose che può andare a fare. Di sicuro la cosa più importante è raccogliere più dati possibile su quello che già c'è. Quindi un'analisi fatta bene da un punto di vista per quanto riguarda il settore degli alberghi è quello di andare a verificare in che condizioni è già la struttura ricettiva sui motori di ricerca, come il lavoro che è stato fatto. Quindi si concentra molto sul raccogliere i dati, quindi non lo so, per esempio la Search Console, che è uno strumento che consente di sapere da dove arrivano i click da Google, oppure se c'è Google Analytics, oppure tutti questi strumenti che ci sono a disposizione su dati che già abbiamo, perché bisogna fare il punto della situazione. Una volta che hai fatto il punto della situazione e che sai dove stai per mettere le mani, vai ad analizzare il mercato e lì vai a cogliere quelle che sono le opportunità che ancora non vengono colte. Quindi c'è un primo step di conoscenza di tutti quelli che sono gli asset attuali della struttura ricettiva sulla presenza online. Il secondo step è tutto quello che la struttura ricettiva non sta ancora prendendo. Perché facciamo un esempio pratico, perché non sembra... Quindi analizzo per esempio il sito, mi rendo conto che il sito va bene, il nome brand è visibile sul motore di ricerca, ma non è posizionato per una chiave che potrebbe essere invece una buona chiave. Facciamo un esempio ancora più concreto. Ho un hotel in centro a Bologna, mi rendo conto dalla prima analisi di conoscenza che l'hotel è ben posizionato per tutte le chiavi relative, facciamo quest'ipotesi, ha il nome del brand, nome del brand più città, chiavi generiche eccetera eccetera. Poi approfondisco, mi rendo conto che per esempio non è posizionato per delle chiavi strategiche importanti. Quindi l'hotel sta in centro, sta in via indipendenza, mi rendo conto che se cerco hotel via indipendenza a Bologna non compare. Ecco, questo è un secondo step di opportunità mancate. Secondo me già incominciamo a vedere un'analisi un po' più approfondita rispetto al solito. Opportunità che sto cogliendo, opportunità che invece non sto riuscendo a raggiungere. E da qui si incomincia a fare quella che viene chiamata la keyword strategy. c'è tutta la parte strategica orientata ovviamente ai risultati, che nel caso dell'hotel sono abbastanza chiari. Vendere le camere, se non abbiamo risultati di traffico, non abbiamo risultati mirabolanti, dobbiamo vendere, abbiamo poco da fare. Quindi qui è chiaro, a me gli hotel mi piacciono un sacco perché l'obiettivo è chiarissimo. Se non vendi, l'hai fatto. Quindi queste sono le cose dell'analisi importante. Una volta che hai fatto la keyword strategy ti rendo conto di tutto quello che, di dove sei, di dove non sei e di dove dovresti andare. Ecco, questa è a grandi linee. Quindi si parte dall'analizzare le informazioni che già si hanno. Quindi Google Analytics dicevi, quindi che ovviamente deve essere installato sul sito dell'hotel, ma anche la search console, che è uno strumento di cui abbiamo parlato in una puntata dedicata del podcast, che è uno strumento di cui l'albergatore, il direttore, deve avere accesso e deve poi passarlo ovviamente al consulente di turno. E la cosa più interessante che ha detto Giorgio è il fatto che un albergatore, già con i suggerimenti che ha dato Giorgio, può effettuare una prima ricerca. Quindi basta che va su Google, da adesso, va su Google, può effettuare la navigazione in incognito e comincia a cercare, ne so, hotel in centro, Bologna, e vede se esce, hotel Bologna e la via in cui sta. Quindi già ha alcuni dati a disposizione. Quindi la search console però può aiutarci ad evitare di fare questi test. Allora, io faccio un po' l'avvocato del diavolo e parlo anche un po' da profano. Entrando in incognito, cercando determinate keyword, ho sempre un risultato veritiero oppure comunque rimane influenzato anche dalla mia posizione geografica? Quindi sarebbe meglio partire per la search console oppure va comunque bene? Non mi rendo conto, non lo so, eh? Sì, secondo me la cosa migliore è la search console. È la search console perché ti dà già dove tu sei e dove tu puoi partire. Infatti diventerebbe importante per gli albergatori conoscere questo strumento. Io ho un po' che lo dico. Questo strumento non è uno strumento prettamente SEO. Purtroppo abbiamo negli anni calato questa mentalità che ci sono degli strumenti che sono solo per tecnici e sono degli strumenti solo per alcune figure tecniche. Invece la search console è uno strumento molto interessante anche per chi non è SEO, anche per chi ha una mente un po' più elastica ed aperta e conosce il suo business. Io spingo molto sul fatto che gli albergatori, comunque le persone che hanno un'impresa, vanno formate. Vanno formate il più possibile. Poi c'è chi è più aperto e chi lo fa di suo e c'è chi proprio non riesce a farlo. Questo è nell'ambito umano, siamo così come esseri umani. Però questo aspetto di sapere almeno le zone importanti di search console secondo me è importante. Ecco, search console è uno strumento da utilizzare senza alcun dubbio. Ok, abbiamo parlato di Google Search Console, ma tra i motori di ricerca non esiste solo Google e ti chiedo, Giorgio, se ha senso verificare il proprio posizionamento anche su altri motori di ricerca come Bing. Parlavamo di search console. Per Bing uno strumento che sta andando, tra virgolette, di moda adesso è il Webmaster Tool che mette a disposizione Bing, che è molto simile alla search console. Esatto. Guarda, sui motori di ricerca, diciamo esteri a quelli che possono essere quelli di Google, la cosa importante è riuscire a capire qual è il nostro target e cosa usa. Cioè, non è che io devo essere presente dappertutto, devo essere presente dove ci sono i miei clienti. Quindi, se ho un target prettamente italiano, di persone che viaggiano all'interno dell'Italia, non ha senso essere presenti ovunque. Se invece il mio target è internazionale, devo studiare bene che tipo di target è. Quindi, se ho un pubblico russo, a quel punto c'è Yandex. Se ho un pubblico che viene dagli Stati Uniti, ecco che Bing diventa strategico. Cioè, capire qual è il mio pubblico e ottimizzare, perché tanto partiamo dal presupposto che non è che io non solo non posso essere presente dappertutto, ma economicamente non posso essere presente dappertutto. Cioè, non posso investire in ogni canale che c'è oggi su internet. è grandissimo. Quindi, io devo ottimizzare anche le mie risorse economiche e di tempo. Quindi, come faccio a ottimizzarle? Se conosco il target, so dove andare. Se conosco chi sono le persone che vengono, i miei clienti, tanto i dati li abbiamo, basta riuscire ad avere un buon sistema di elaborazione dei dati dei nostri clienti, lo sappiamo. E a quel punto Bing diventa interessante se ho quel tipo di target, altrimenti no. Perfetto. Chiarissimo. Connessa a ConnectGT, c'è una newsletter che Giorgio ha inviato anche questa mattina con cadenza settimanale, se non sbaglio, dove uno degli argomenti trattati era appunto la meritocrazia all'interno della SERP. Quindi ti chiedo, Giorgio, quali sono i principali errori che penalizzano un sito web e che lo fanno sprofondare nella SERP di ricerca? Quali sono gli errori più comuni che hai visto e che un albergatore dovrebbe evitare? Ok. Allora, in ambito, lo ricordo sempre perché è importante, in ambito, stiamo parlando di hotel, io lo ridico ogni tanto, Marco e Edoardo, perché poi vengono presi gli estratti e ogni tanto mi vengono dette delle cose che sono fuori contesto, quindi preferisco sempre dirlo. In questo ambito particolare, gli errori più comuni che io ho notato nell'arco di questi anni non sono tantissimi, devo dire la verità, però possono essere racchiusi in due, tre cose tecniche che vengono fatte. La prima è che piano piano questa cosa non viene più fatta, per fortuna, sono i titoli delle pagine che sono sempre uguali. È l'errore più classico e comune che si vedeva nei primi anni 2000. Diciamo dal 2004-2005 fino al 2010-2011 è stato l'errore più comune, quindi ogni pagina deve avere un suo titolo. dopodiché l'errore più diffuso dopo di questo è stato quello di avere per l'hotel, per la struttura ricettiva, poche pagine, veramente poche pagine all'interno del sito e soprattutto, errore ancora più grave, collegato a questo, è che le strutture ricettive hanno iniziato ad avere la pagina servizi, dove dentro la pagina servizi loro sostanzialmente vanno a fare l'elenco dei servizi senza che questi servizi poi abbiano delle pagine dedicate. Quindi facciamo un esempio pratico di questa cosa. L'hotel, le faccio un estremo, così ci rendiamo conto, l'hotel che ha una camera e in questa camera ha una televisione. Questa televisione non è una televisione vecchia ma è una televisione diciamo molto grande con HDMI, 4K, cioè non lo so, account di Netflix, Chromecast, tutto quello che volete. Facciamo questo esempio. Allora, questa particolare televisione nella camera, di solito gli albergatori, i siti degli alberghi, la inseriscono come servizio e inserendola come servizio non è così facile farla uscire nei risultati di ricerca perché esce la pagina servizi non la pagina dedicata alla televisione. Se una persona va a digitare hotel con tv in camera, ora faccio questo esempio, non esce la pagina del nostro hotel, magari esce la pagina di un competitor perché la ho affatto, cioè ha fatto la pagina dedicata alla televisione e magari qualcuno può dire ma a che cosa mi serve fare una pagina dedicata alla televisione? Allora, se tu hai un target per famiglie per esempio, riuscire a raccontare bene la tua televisione, il vantaggio che c'è di avere una televisione in camera, per esempio per i bambini, per l'intrattenimento, per il film, per chi sta viaggiando, eccetera, eccetera, vai a raggiungere, anche se sono poche ricerche al mese, le ricerche esatte. Io per esempio cerco quando vado a trovare, devo viaggiare, voglio trovare un hotel, cerco l'hotel che ha la televisione in camera con l'HDMI per esempio, perché mi porto il computer e me lo collego per esempio, perché sono già in viaggio, quindi tutte queste cose che sembrano delle piccolezze, ora l'ho fatta piccola sulla tv, sono molto grandi, sulla tv è veramente piccola, ma la posso ingigantire anche sulla tv stessa, perché se tu hai un hotel per famiglie e il tuo posizionamento è un hotel per famiglie e il tuo slogan è per esempio una vacanza rilassante dalla mattina alla sera, avere la televisione in camera puoi comunicarlo come il cinema in camera, collegare questo concetto, il cinema in camera alla tua vacanza per famiglie rilassante dalla mattina alla sera rafforza quello che è il posizionamento del tuo hotel e quella che è la tua offerta, ma se tu hai tv piccolino nei servizi te ne fai poco. TV color ovviamente. TV color, ok, quindi questo ovviamente anche applicato ad altri contesti come per esempio la piscina, quindi aiuta a raccontare quella che è la storia del tuo hotel, perché poi vendere un prodotto che sia una camera o che sia su un e-commerce o che sia su un altro prodotto comunque forse il e-commerce è più freddo quindi l'esempio non calza, però vendere un soggiorno ha bisogno di raccontare dietro una certa storia e poi c'è tutto quanto il funnel di prenotazione che parte dalla pagina servizi che poi deve essere ben collegata con altri strumenti di cui abbiamo parlato più nel dettaglio anche nelle altre puntate per esempio il booking engine oppure il form di richiesta preventivo. Quindi questa storia della tv è interessante perché ovviamente estremizza un concetto che appunto è questo anche di aiutare andare a lavorare su determinate keyword che altrimenti non avremmo preso in considerazione. Ma più che altro ti aiuta a creare dei nuovi contenuti, no? Mi è piaciuto molto, Giorgio dice un errore comune è che i siti di strutture alberghiere hanno poche pagine. Beh, questo ti aiuta a creare più contenuti e avere un sito anche più variegato insomma. Sì, io sfido la maggior... Quindi se ci sono dei webmaster in ascolto sicuramente sapranno che tipicamente cosa succede? Arriva il cliente e ti dice mi fai il sito? Sì, ce l'hai contenuti? Ah, qualche foto la rimedio, i testi non ce li ho, scrivi qualcosa tu, prendilo da questa brochure. Questo immagino anche da non esperto SEO quale io sono, voi lo sapete meglio di me, che sia la morte del SEO perché se non c'è contenuto Google, il Bing o qualsiasi motore di ricerca di turno che informazioni prende? Quindi come si possono scrivere dei contenuti delle linee guida di Massio? Non so, un vademecum di 4-5 punti Giorgio che ti vengono in mente per dare qualche consiglio su come scrivere dei contenuti nel sito? Allora, i contenuti del sito sono un aspetto molto importante. Non dico sottovalutato perché in questi anni abbiamo fatto in Italia una buona divulgaria quindi siamo secondo me ad un buon punto. Un aspetto da considerare secondo me è la parte di blog. La parte di blog perché alcune strutture ricettive, non dico tutte, ma alcune strutture ricettive sono quasi costrette ad averlo per raccontare quello che viene fatto. Immaginiamo un bike hotel per esempio, messo in una condizione e di una posizione geografica favorevole a uscire in bicicletta dall'hotel e andare a fare dei percorsi. Questo è evidente che non solo ha bisogno di pagine diciamo statiche per quanto riguarda gli itinerari per esempio, di pagine classiche per gli itinerari da avere, ma anche un blog che racconti cosa avviene. E quindi i contenuti sono importanti. Qualche punto va dato, qualche spunto diciamo così. innanzitutto cercare di capire dove possiamo scrivere. Cioè qual è il nostro target? Torniamo sempre alla stessa cosa. Qual è il nostro target? Qual è il nostro obiettivo? Che cosa dobbiamo raccontare? Questo è sempre molto molto importante. Il problema però nella scrittura dei contenuti è che spesso perché questo non è un settore da un punto di vista di comunicazione maturo e probabilmente non lo sarà mai per vari motivi però di solito quando si fa scrivono contenuti per un brand bisogna prima raccogliere tutta una serie di riferimenti ovvero quello che è il brand quello che è il posizionamento che l'hotel vuole ottenere qual è il tone of voice qual è la mission la vision tutte cose che comunque vengono raccolte e vengono costruite di solito quando si va appunto a fare la costruzione di un brand questo di solito non viene fatto in questo settore viene fatto poco però sarebbe l'inizio quindi si dovrebbe partire da qui perché a quel punto hai una documentazione cioè quando tu stabilisci qual è il tone of voice hai un documento che dice noi siamo questo hotel questo è il nostro posizionamento questa è la nostra vision questa è la mission questo è il nostro tone of voice questi sono i nostri clienti quando hai questo documento a quel punto scrivere contenuto è più semplice puoi anche provare a demandarlo puoi anche provare a trovare qualcuno che scriva dei contenuti ma se non hai questo documento è difficile perché poi ti arriva ti arriva dai una commissione a qualcuno che ti scrive i contenuti quello non ti piace perché ha scritto determinate cose eccetera eccetera quindi questa è la prima cosa la seconda cosa è quella che dicevo prima capire il pubblico capire il target e capire dove puoi andare ad espanderti e capire che tipo di contenuti perché sì scrivere è sicuramente molto è fondamentale però se tu non hai un punto di riferimento iniziale per chi stai scrivendo e chi sei ti viene difficile proprio produrli secondo me quindi queste sono le due cose da andare a fare quindi avere un'idea chiara di chi è il pubblico di destinazione di riferimento e qui subentra anche il concetto del CRM quindi imparare a conoscere quelli che sono i propri clienti le loro abitudini fare anche delle domande ai clienti una volta che arrivano in struttura per capire che cosa hanno cercato che cosa gli piace quali sono i servizi ancillari che hanno acquistato durante il loro soggiorno e così via quindi andando un po' a riepilogare di che cosa abbiamo parlato in questa puntata abbiamo parlato di che cosa è la SEO di quali sono gli aspetti che un albergatore dovrebbe verificare quando si affida ad un consulente esterno di come Google sia importante tra i motori di ricerca e se vogliamo investire in un altro motore dobbiamo capire però qual è il nostro target per ottimizzare sia l'investimento economico che è quello temporale e anche come andare a scegliere una strategia di keyword in base a contenuti che vogliamo creare quindi ecco questo è un po' il sunto degli argomenti che abbiamo trattato con Giorgio sì come dicono gli americani the long story short grazie mille Giorgio per tutte quante queste pillole veramente molto preziose e ovviamente maggiori informazioni le trovate anche sul suo canale YouTube no Giorgio ci sono davvero tanti 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 contenuti a breve farò anche il mio sito internet che l'ho messo in manutenzione giorgiotaverniti.it perché ho talmente tante cose sto creando un luogo semplice senza troppi contenuti ma con tanti link di rimanda ok perfetto quindi ci vedremo anche lì grazie ancora buon lavoro a tutti e buona SEO ciao a tutti ciao grazie a voi grazie a tutti Grazie a tutti.